In quella via Alfonso Signorini Eh vabbè, eh vabbè uno vuole stimare la sua Cioè voglio affari, va Alfonso Signorini tutti quanti che si sentono il canale 5 Eccolo, eccolo Buonadera, buonadera, bentornati tutti quanti e consigli per gli acquisti Allora, oggi abbiamo una gara da soldi Buoni, state buoni Peppuccio, l'ho betta un becco A prafoku A prafoku Eh, che lo scudo La porra Buongiorno a tutte le piloti Anzi, prima alle pilote E poi alle pilote Buon inizio di fine gara Anzi, non che inizio di fine gara Buon fine gara Ah, no, che beffaio Buongiorno Ma che sto dicendo Che cosa sta succedendo? Lo faccio a capendo Prima della caduta del mulo di Merlino Eh vabbè E ce l'ha arrivato tu che lo fai Ma a me è sempre buttato via A prafoku A prafoku La pasta è rigorosamente al luogo La pasta al luogo Questa era bella la pasta al luogo Ma a me moriamo di video Mamma mia che bella Vabbè anche, scusa, il cane, Giorgio Il cane, Giorgio No, non si dà un uomo No, non si dà un uomo No, non si dà un uomo Giorgio Ah, come si chiama il cane? Io mi chiamo Giorgio Lui è Lampino Ah, è Lampino Ah, è Lampino Ah, ho capito Delle cose Tuba Tuba E il cane, Giorgio Il cane, Giorgio Il cane, Giorgio Il cane, Giorgio Poi una volta, all'ultimo ci riesce Tuba Il cane, Giorgio Il cane, Giorgio Il cane, Giorgio Spettacolo L'any, Giorgio Aiaiaiai Ahi ahi! Beate Ilуки Che metni motore Sono in un minuto Pasta e pagioni Non vedo l'ora Tornare a casa Puoi andare anche ora Guarda Pedro, credo che tu non faccia ridere e che questo non sia un villaggio della casa Mi prego, mantenere il contegno sennò puoi anche Cos'è che diceva, puoi anche andare Puoi anche andare Sì, sì Non vedo l'ora di andare Mangiare le pasta e i fagioli Mangiare le pasta e i fagioli Fanno anche orti La sua parola Ma poi fa sore Sorata Al sore Sembi Dai Mi faccio un po' le quattro risate Così Brucia un po' di quella poco di istituità che mi rimane Voi avete comprato mai i mochi? Si Eh Siccome Dentro dei mochi c'è una bustina E ho detto Vabbè se ci metterà di sopra Come quando ti metto Dei mochi no? Eh Allora lo apro Cominciamo a mangiarli Facciamo un sapore strano Poi mia moglie mi fa Ma non è che Non dove vi è detto Ma scordo C'era guarda la bustina Ce l'ha scritto Noted E hai dato l'uomo Che è il meglio Non è che ha vendito E Il 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 Un po' di traffico un po'? Signora, piano di sopra... Oraccio, t'ha fatto di male. La prima che mi è venuta in mente dopo il nostro signore. Finito una strada. In realtà lui ha creato il piccolo. Lui insieme al bagarre. Mamma mia! Questa mi è venuta con Adriana Porto. Lei allude che... Stanno commentando un articolo di giornale che dice... Le persone della perfetta... E lei magari gli dice... E vedi Gianna, questo è per te. Ascolta bene. Dimi una roba del genere. E lui... E lui... Ma lui la prende malissimo. Ma... Pensa a te. Che hai tipo... 50 anni. Proprio la prende malissimo. A cattivo proprio. Cioè, non fanno... Non fanno proprio... Non fanno proprio una lite. Però... Lo vedi che lui... Sti zitti. Non l'ha presa bene. Non l'ha presa bene. Non l'ha presa in modo sportivo. Beh, non è che abbia proprio all'uso lei, diciamo. Facendo così. Non è che qualcuno ha gridato... Ma tocca piano! Non la basterà mai... Faffalardo... Stefano, stasera sempre 51? Non ho capito niente. Stasera sempre 51? Eh? Eh vabbè, eh vabbè. Alza la voce. E che è? Mi sta sentendo quella... Di sotto mi sta sentendo. E che devo dire? Non sento. Sento basso. Mi sento in un zotticcio. Allora, ha detto... Stasera è ancora 51? Ma cosa vuol dire? Ma cos'è qui? Ti giuro che non capisco che cazzo stai dicendo. I giri, i giri! Eh, i giri cosa? Non sono proprio 51. Non ci è, sono 51 e mezzo. Non so. Ah, litri! Vabbè! Ma perché non mi chiedi litri? Vabbè! Che cazzo volete? Dov'è? Mannaggia! Allora... Calcolo adesso. Preciso, preciso, preciso. Avevo ancora calcolato per chi? Ci fate a sette. Ci fate a sette? Ma con un litro vabbè? Mi ha avanzato pure con ci fate a sette. Mi ha avanzato pure con ci fate a sette. No, no, no. Ai ai ai. È mezza ora di gara, giusto? Sì. Mezza ora di gara, sì. Sì, ho affrontato. Quindi sono 20 i giri. In teoria mi da 50. 20 minuti. Poi 56, dai. E che ne senta? 55 più me lo coltano. C'è il giro di informazione. Sì, sì. È il giro di informazione. È il giro di informazione. Quindi stasera si fa il giro di informazione quindi stasera? Sì, sì, completo. Non si parte come un'altra volta? No. Ah, no, 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 no. Ah, no, no, no. Non l'abbiamo fatto. No. Non l'abbiamo fatto sì. Eh, vabbè, sta scicchando in merda. Un'altra volta. Un'altra volta. Un'altra volta. Un'altra volta. Un'altra volta. Un'altra volta. Mi puzzano già le sedi, ragazzi. Te lo dico. Eh, io ho fatto prima. Non mi è venuto scudato da casa. Beh. Beh. Ma c'è? No, no, niente. È scesa la macchina. È griffato. È l'avviatore. No, in base alla prima americana. È lo spintero. Secondo me lo spintero. C'è quella macchina. Il solenoide. È chi ha visto la guerra dei mondi. Il sacco. Sto cercando un solenoide che la mia macchina. Non lo so. Wow. Ma chi è? È Mordecotta. È Mordecotta. Vabbè. No, però l'ha detto. potete. Vabbè, no, io mi posso fare più. Che questo? Eh. Qui la BMW, il corvo, la sua mangi. Niente, 101, 5 Sì, ho lo benzina Assurdo ragazzi, assurdo E anche per la vita obbligazione Tutti per non prendere almeno la prima volta Io scommetto, vedo alcuni All'ultima gara domenica al canale Chiederanno cosa c'è il pit obbligatorio Vabbè Ora che l'hai detto, te lo faccio un posto Faccio il pit obbligatorio Ma la gara quanto dura? Ma c'era la tavola Ma c'è la finestra temporale del pit Sì Quanto dura? 85 minuti Ma piove asciutto È giù Giorno o notte Comedì? 24 ore Ma ci siamo Mangia e dimagrisci Dimagrisci Comunque 24 ore Mangia e dimagrisci Mangia e dimagrisci Attenzione C'era una Renault C'era una Renault C'era una Renault Turbo diesel Cos'è? 1500 turbodiesel 1500 1500 Però con 50 litri Alfio ci fai 100 giri almeno Male Vantaggio Eh scherzi Come ha fatto l'Audi per vincere Girava col diesel E appunto da fare meno soste In realtà l'Audi con le delle microchele mani Sumavano l'autifensione È semplicemente una cosa per l'Audi Sì Ehm 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 Ragazzi Mangia e no Cazzo 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 Yellow flag is active one Metto casima al corso Cazzo 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 Quindi? Te? Non mi ricordo più. Nooooo! Chi? Un penso di pietro! Un penso di pietro! Non vedete dove si deve fare il pietro di pietro? Non lo so. Non aveva la calata da portare o no? No. È la voce di Iron. Be careful. No. La sessiona non è ancora. Era la voce di ciccio. bastardo buone qualifiche ragazzi buone qualifiche a tutti a me che due giri bisogna fare primo giro lanciato e secondo giro veloce lanciato poi bouncer e torna in pit sai cosa fa se mi metto in traiettoria con il primo settore parcheggio da un pezzo calma 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 Grazie a tutti. 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 No, no, no. Aspettate a uscire. Non l'ho controllato prima. Vuole andare a rimettere. Vediamo che non bruci troppo. Quanto consumi? Sì, vai tranquillo. Allora... Ma tu mettine 56 che così non rischia, Alfio, che non ha senso rischiare. Allora, strategia... E... Aspettate a uscire. Su streaming? Sì, sull'app... sull'app di Megaset. No, ma... Sì, sono bravi. Ok, pensavo io l'avessi... No, ma era il suo secondo giro, giusto? Sì, sì. No, no, pensavo che... che io l'avessi cancellato. Bravi ragazzi, bravi. Eh, insomma, dai. Oh, sono contento della mia qualifica. Non ho fatto un tempone, però sono contento. No, ma qui devi portare il giro a casa, eh. Perché rischi di... di sputtanare la... l'ottesione. Oh, no, no, no. Eh... Ma si vede che ha fatto un errore. Cioè, nessuno ha fatto il tempo perfetto qua. No. Guardi i settori. Ma chi sta? No, perché fa così? Ma lui fa la pit subito. Vabbè. Eh, bisognerà stare attenti all'Undercut, hai capito com'è l'antico? Voi... Fatevi la vostra gara tranquilla. O si copre... Allora, se quello davanti va forte, si sta fuori. Però occhio che Antonello non è tanto costante, quindi può essere che qualche errore lo faccia. O che prende e va via. Ma se è lì con noi... Conviene fermarsi, secondo me. Almeno per fermare Roberto. Esatto. Allora ultimo... Ma fatti cazzo tu vuoi? Questo vuoi? Sto riflettendo d'alta voce sulla mia strategia. Allora... 57... Abbiamo detto 57 più uno, giusto? Eh... Io 56 più uno. Io farei 105 più uno. Cioè, sono quattro litri in più di quello previsto, quindi... Non ti cambiano la vita. Eh... Eh... Infatti, infatti. Ero appunto già quattro su tanti. E mi schianto a terzo giro. Giusti, giusti, giusti nel senso di... Che rischi oppure che non rischi. No, no, bastava, non bastava. Ti avanzava. Eh, allora giusto. Voi, se ti fai doppiare, risparmi gli litri in mezzo, eh? Sì, sì, sì. Quindi quasi guardi un'opzione da sottovalutare. Metto 50 litri e mi faccio doppiare adesso. Eh... Due volte, però. La porti a casa? Sembra così, ma la porti a casa? Eh... Tac... Comunque forse questo è uno dei pochi casi in cui la seconda gara del campionato ha più partecipanti della prima. È vero. I nostri campionati... Eh... 13, eh? 12. Ah, 12. Minchia. Adesso siamo in 15. Mamma mia ragazzi, tanta roba. Devono arrivarne altri, eh. Eh, sì. Eh, ma c'è... RGDA non è entrato ancora? No. Eh... Big Boss non si è presentato? No, Big Boss c'è, c'è. Big Boss è peligra. Ah, c'è Big Boss. Ah, scusa. Ninja non c'è allora. Quindi sono in due che non ci sono. No, l'ho detto che era in forse. Vabbè, comunque. Eh sì, infatti. Eh, ringrazio che non c'è anche Pabby. Sono disaccato. D'accordo. 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 Perchè non entra Iepes? Perchè non entra Iepes? Perchè non entra Iepes? Adesso, migliaro, però vogliamo far entrare Iepes? No! Buon mare Iepes! Attenzione, ecco, anche questa palla alta senza Iepes è in complizio! In complizio! Vengiamo un procedimento in testa! Va bene. Va da entrare RGDA! Perchè non entra RGDA? Perchè non entrare RGDA! Perchè non entrare RGDA! Ma tu, Luke, sei davanti a Morricote? Sì! 8.4 Puoi andare a Cedis? Sì! Sì! Ok! Morano sta ricombattando! Io ho paura qua dietro! Perchè? Non ti fidi di noi! Non ti fidi di noi! Sua la scicanza che devi fare! Ti devi fermare come petto! C'è Alfio che sta dettando più volte lo sfondamento! Non sono andato attraverso! Stanno prendendo le misure! Stanno prendendo le misure! Ha sentito che c'era in grado Alfonso Signorini! Ma alla fine non lo viva! Minchia! Si! Ho messo un bel parabufa lì! Sponsorizzato Durex davanti! Buona gara ragazzi! Buona gara ragazzi! Ho meno di 5 minuti dai! Ma ancora 20 minuti dai gara ragazzi! Si si! 20 minuti! Poi ci si ferma eh! Ma c'è il cambio gomme! No! Ah ragazzi mi raccomando! Un giro e fermate! Oh cazzo devo togliere la mano! Cambio gomme! Ah sì! Eh ma è giù diciamo! È giù stopp fork! Engineering ha detto qui! C'è tutto cenare? È adesso attraverso! Heyettuto questa! Chara a' marrona! Hai giro di diretti! Adio a' ... E? Amici, amici, io sto in. Ti in c***a, signori. Vai, Gio, mettete davanti. Vai, vai, c'è no per tempo. We've got light damage at the rear. Yellow flag, yellow flag, be careful. I got a Maltz. 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 I got the Maltz. E' preparato i misi per il bilano. Ah, ok. Ecco qui, io lo sbaglio. Car on the right. Clear on the right. Se gli metti pressione sbaglia. Bene, bene. Il pressione di crescita lo sono pazzo. L'80, l'80. No, non l'80. No, non l'80. Il sbaglio di un attacchi. Grazie a tutti. 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 Quanto giri? 29 net. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie 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 a tutti. Guarda che trolla maledetta. Grazie a tutti. 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 Ma i nioci stanno annoiando. Andiamo a fare un po' di... ciarpasci. Dove... Grazie. Grazie. Eh, l'ho spinnata una curva, però l'ho tenuta. Perso una posizione, e vabbè. Capita. Purtroppo quando spingi... Let's go, go, go. Capita. Stavo girando in mezzo a stovato, cazzo. Ti prende adesso, eh. Ti riprende. No es problema. No es problema. No. 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 ebbè ci avrai le gomme consumate anche io faccio i giri di prima devi un po' adattare ma perché ti hanno parlato altre cose ti hanno parlato le cose è che quello è parlato tedesco ebbè ci sono 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 ma ebbè ci sono 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 e quindi ci sono ebbè ci sono ebbè ci sono ebbè ci sono ebbè ci sono e quindi ci sono ebbè ci sono ebbè ci sono ebbè ci sono e ci sono e quindi ci sono e quindi ci sono e quindi ci sono e quindi ci sono ebbè ci sono e quindi 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 ci sono e ci sono e ci sono e quindi ci sono e ci sono e quindi ci sono e ci sono e quindi ci sono e 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 sono e ci 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 sono